Ciao a tutti ragazzi, eccoci in un nuovissimo video! Siamo di nuovo con Edoardo e Samuel e facciamo comunque il terzo. Saluta Samuel! Samuel! Perché addio? Vabbè facciamo il suo square. Qua è creativa. Molto creativa. Molto creativa. Vabbè, io mi prendo le mie armi. E anche io. Tutti quanti le leggendari. Ok, ok. Sono più forte le leggendarie delle epiche. Ma ho iniziato un video. Non mi ricordo forse. Non ho ascoltato, ma mi sa che... Hai iniziato il video di nuovo? No, 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 non l'ho iniziato, ma mi sa che non lo sto proprio iniziando a registrare. Vabbè, poi vado a vedere nel mio canale. Non lo vado a vedere nel mio canale. Non lo vado a vedere nel mio canale. Non lo vado a vedere nel mio canale. E' un canale. Non lo vado a vedere nel mio canale. Non lo vado a vedere nel mio canale. Ma ho cotto una mappa. Vabbè, io ho una mappa. Ognuno sceglie le armi come vuole Sbrigatevi Pippo Ok facciamo due messe uno Comune e comune Oh Cristiane facciamo come l'altra volta Che noi ci siamo uniti per uccidere quello E dopo come si chiama Quando l'abbiamo ucciso ci uccidiamo entrambi? No No Giochiamo Non lo che ho disceso questa mappa Posso scegliere i dati che usiamo? No Mi prendo lo spasso che è più buono Usiamo Solo leggendaria? Sì Scasole e spazze E ciocchino E questo ciocchino Usiamo lo scasso leggendario Vabbè io o me lo sono preso uno a caso Vabbè andiamo Aspetta Mettete Aspetta Eppure valgono Cristiane No mi hai già ammazzato Aspetta Mettete giorno 6.100 Aspetta lo metto io Grande Ho messo io se ti interessa La prima giornata Facciamo una sfida Il primo che fa 10 kill Vintere Aspetta che ti metto delle impostazioni No No Il primo che fa 15 kill No Decido io Quindi è boss Quanti kill dobbiamo fare Perché me ne sono messo eh Nessuna L'ho deciso io Oh L'ho rotto Non mi fa costruire Ha fatto Modificare Appena l'ho costruito Guardate Un Pro player Come gioca Che mi ha Che mi ha Che mi ha Il primo che Facciamo il primo che arriva 20 kill Io No No Decido io Vintere un canale youtube No M'è rotto No Decido io E che decidi Quindi Niente kill E che bisogna fare Niente Ci dobbiamo sparare E non dobbiamo fare Nessuna sfida Ma da dove sei venuto Tu Dico che io Non lo posso fare Durare tanto Non lo posso fare Durare tanto Facciamo una sfida Che è il primo che arriva 20 kill No Basta Ti ho spavuto Ma che bravo Spavuto Christian Christian Ti ho spavuto Io Impossibile che non ti becco più No Mi sentito Vabbè Adesso Mi metto Sì Eh vabbè Christian Anti-olio Basta Mi è già rotto Christian Ma sta Mi è già rotto No Ma è sempre Io però Vai Sono primo Sono primo Eh Sei primo Sei primo Ma dai Ma che è Cosa Ehi Scappa 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 Dov'è E' posto Basta Christian Mi è rotto Allora vincere Io Arrivando a 20 kill No Non basta Mi prendo Mi metto Le impostazioni Forse Svegli al cervello Ok Mi è rotto Con quello Spass Fatemi Prendere Quei fucili Allevan Fatemi Prendere Il Spass Se me lo sono Lasciato Su E io Spass Solo Spass Aspettate Un po' Oh 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 Dai Sono primo Vale Vale Fatemi Prendere Quello Spass Mi Mette Rott Mi ha Già Rott Un po' Le scato Lelele Non Si Credo Vino 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 Sponate 203 E dai Fatemi Prendere Quello Spass Sì Cristiano Spass Stiamo Facendo Un casino Sì 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 Abbavita Vino Vino Anche Lo Spass Fermatevi Vino Sì 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 Noi È troppo Veloci Facciamo Che Sì 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 Oh Finalmente Cristiano Sì Mi metto Le impostazioni Forti Tu le volevi Le impostazioni Forti Io te le ho date Cristiano Non voglio Però Quello Uno Il caldo A sparare Spavola Attento Ti ho giunto Il corretto Ti ho tirato Non è pronto Oh Ti potrei Aldai Anche io Sono un umano 34 132 Guarda Finisci La mesura Io ho fatto Una Una Meruta Grande Edoardo Per Voglio Ti ho massacrato E ti arrivo A 30 Buongiorno A 30 Sono pronto No Cristiano Ti è Stai 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 Questo Spazio L'ha Rotto Vorrei Che la Vinco Velocissima E questo Video Dura Un minuto Non ci Credo Basta Basta Edoardo Basta Solti Sono legale Perché io Ho Mestuto Basta No Yo yo Rompelo Cosa Stai Così Basta No Smetti Di picchiare Edoardo 21 Si arriva A 40 Se no Dura Troppo Poco No 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 Non ci arriva Niente Non ho fatto Niente Non ho fatto Niente Un danno È morto È morto È morto Amore Sì Signora Sei chiodo Signora Sopera No Ci arriva Niente Di kill Eh C'è Giussato Aspetta Chi ha Più Chi Siamo Come 24 In Io Io C'è Una 26 Sì 16 Ma cosa Che Buongiorno Sei È venita Se Sparavolta Se Sparavolta Venite Venite Chi Scusa Scusa Mori Ma E' normale Che Perdi Se Non Cerchi Ad Ammazzare Scusa 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 116 116 Ma Sì Ma Scusa 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 Mi aspettate un attimo, devo andare a prendere il colore, senza svegliarmi. E' stato dato, c'è i tuoi di più. Aspetta! Aspetta Cristian che va rotto! No basta, lasciatemi un attimo se no abbandono. Lasciatemi un'arma. Anche io devo cambiare l'arma, scusa, scusa, scusa. Allora, mettiamo questo, lo spasso. Posso lo mettiamo a niente? Cristian, Cristian! Mi miravi! Cristian, Cristian! Lo smetti? Oh, finalmente! Oh, sono a 34 tir! Cristian, aspetta! Quanto io la minaccia! Che colt'è? Una papaccia! Io sto lo durando. Scusa! Aspetta! Sto prendendo... Sto prendendo! Sto prendendo! Sto prendendo! Ma adesso che ha la... Vado 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 vado! Mi usai lo spasso! No, cento... 65 scusate! 65 scusate... Ma adesso che ha la... Ma adesso che ha la... Meno male che ho messo la testa nel pittino! È il cazzo... Ma basta tu! Ma basta tu! Ma basta! Due kills e vinco! Aspetta, devo prendere un'altra arma! Due kills e vinco! Cosa? Aspetta, devo prendere un'altra arma! No, non valeva questa killf! Ah va beh, ci valeva tanto! Sono anche il posto! Due kills... E' qui, in vermi! Cristian, non si arriva nessuna kill! Dai, ultima kill! A me è già rotto, Edo! Ti ho perso parola, non la mano che ti è rotto! Dai, lasciamo le oggie! Asmetti! No, basta, chi sa? La vince! La vince! Vediamo tra voi due chi vince! Vabbè! Hai vinto Samuel? Ma mi sono! 23 kill! No, mi sono eliminato! Da quell'uovo maledetto! Dai! Ma dove siete? Nel uovo di pesce! No, siamo stati eliminati! Sconfitta! Vittoria! Sconfitta! Ciao ragazzi, ci vedremo in un nuovissimo video! Ciao, ciao! 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 Grazie.